Arriva anche sul palcoscenico del Teatro Arendano di Cosenza lo spettacolo Terroni. L'opera è stata inserita a margine della stagione di prosa e andrà in scena questa sera alle 21. Lo spettacolo, che vede alla regia Roberto D'Alessandro, autore, attore e regista calabrese nato a Montalto Fugo, in provincia di Cosenza, ma cresciuto artisticamente in Roma, alla scuola di Gigi Proietti, porta in scena la storia raccontata dal giornalista Aprile in una pubblicazione di grande successo editoriale e nasce proprio dall'esigenza di divulgare il contenuto dell'omonimo libro, con la necessità di far conoscere al maggior numero di persone la vera storia dell'Unità d'Italia, dalla sua economia, di quanto finora taciuto dalla storiografia ufficiale sugli acidi compiuti durante la cosiddetta lotta al brigantaggio, sugli squilibri tra nord e sud, su cui fu basata tutta l'economia del nascente Regno d'Italia, e su come di fatto l'Unità d'Italia fu un atto di conquista sleale e scorretto da parte del Piemonte a danno del regno delle due Sicilie.